Una domenica al buio per il comune di Nagotorbole che ieri ha dovuto fare i conti con lo lungo blackout, uno stop che è stato causato da un guasto al trasformatore della cabina posta in via pescicoltura e che ha messo a dura prova abitazioni private e diversi esercizi commerciali del centro storico. La linea elettrica è stata interrotta per circa sei ore in tutta l'area compresa tra l'hotel Ifigenia sul Lungolago e l'hotel centrale Piazza Alpini e Piazza Ghete. Secondo quanto ricostruito le prime segnalazioni ad alto garda servizi sono giunte attorno alle 10. I tecnici di AGS si sono attivati prontamente intervenendo ed individuando il guasto nella cabina di recente installazione. Una serie di concause però ha costretto la squadra coadiuvata dall'ingegner Gagliardi ad allungare i tempi di ripristino. Il camio con la gru è stato costretto ad operare nel parcheggio adiacente via pescicoltura, il quale però era regolarmente utilizzato dai turisti. Si è reso perciò necessario l'intervento della polizia municipale e del carroattrezzi per rimuovere un'automobile che impediva al mezzo pesante di avvicinarsi alla cabina stessa. Presenti anche il sindaco di Nagotorbole Gianni Morandi e parte della giunta per verificare l'andamento dei lavori. Inevitabili i disagi. Molte attività di ristorazione hanno dovuto gettare i generi andati in deperimento nei frigoriferi spenti. Le gelaterie hanno chiuso a causa dello scioglimento del loro prelibato prodotto. Ristoranti e pezzerie sono rimasti chiusi nell'impossibilità di cucinare. La corrente è stata riallacciata verso le ore 16.